Ciao ragazzi, io sono Nicolò, bentornati a Soul Corner Scusate intanto per l'assenza di settimana scorsa ho deciso di prendermi una settimana di pausa Anche perché non c'era così tanta roba così entusiasmante di cui parlare settimana scorsa Quindi ho preferito prendermi quell'attimo di pausa, ricaricare le batterie e ritornare oggi più carico di prima Anche oggi in realtà non ci sono tantissime notizie ma questa settimana ci attendono un sacco di release interessanti Quindi come al solito non perdiamo altro tempo e vediamo che cosa ci aspetta Come al solito cominciamo con dare un'occhiata alle release che ci hanno accompagnato in realtà a questo punto nelle ultime due settimane Racchiuderò soltanto le più importanti visto che comunque ne abbiamo avute parecchie Vediamo un po' quali sono stati appunto quelle più interessanti L'8 di costa abbiamo avuto un restock abbastanza massiccio ma in realtà neanche tantissimo di Nike per alcune paia Come ad esempio le Dunk SB in collaborazione con Five Streetwear, le Gardenia, come ad esempio le SB Run The Jewels, le Jordan 1 UNC E sono stati rilasciati pochissimi accessi esclusivi per le Jordan 1 Lost & Found Questa cosa sembra essere stata fatta per bilanciare diciamo il fatto che abbiano spostato lo Sneakers Day dall'8 di agosto al 9 di settembre Quindi l'8 di agosto quest'anno Nike ha voluto darci un po' un contentino qui in Europa Il punto è che da quello che ho capito sono state rilasciate meno paia delle Lost & Found di quelle che a quanto pare fossero a disposizione sui sistemi di Nike Su circa 1200 paia soltanto circa 200 sono state rilasciate tramite accesso esclusivo E guarda questo potrei sbagliarmi ma potrebbe anche significare E come al solito prendetelo con le pinze perché si tratta semplicemente di una mia idea Quelle 1000 paia avanzate potremmo vederle durante lo Sneakers Day che comunque sono pochissime Quindi mantenete le speranze di nuovo molto basse però chi può dirlo potrebbero comunque arrivare Il 9 poi abbiamo avuto un'altra caterva di Easy tra Slide, Traform, Easy 350, Easy 700 Insomma abbiamo avuto di nuovo un mega restock di un sacco di paia In cui secondo me quella più interessante di tutti era la 500 High, la Tactical Boots Che se non fosse stata un retail di 300€ probabilmente avrei anche provato a prendere Passiamo poi all'11 in cui abbiamo avuto sull'applicazione Sneakers il restock delle Dunk SB in colorazione White Gum e Black Gum Fatemi sapere se siete riusciti a prenderle perché questa è una delle scarpe più consigliate in realtà di tutto l'anno secondo me Meritano veramente veramente tanto Il 12 abbiamo avuto invece le Jordan 5 in colorazione Burgundy Credo che molte tali siano ancora disponibili sulle applicazioni Nike Se avete intenzione di acquistarle E in realtà su tantissimi altri siti Quindi con una veloce ricerca magari potreste riuscire a trovarle anche scontate Arriviamo poi alla settimana successiva In cui il 15 c'è stata finalmente la release delle Dunk Low in colorazione Cacao Wow Prezzo di retail 120€ Queste hanno riscosso un grande successo nelle taglie più grandi Perché erano decisamente quelle più limitate Mentre le taglie più piccoline essendo un modello da donna erano molto più disponibili Al momento non so ancora quante paia siano disponibili sull'applicazione Nike Provate a dare un'occhiata se siete interessati a provare ad acquistarle Passiamo poi al giorno successivo Il 16 abbiamo avuto ennesimi restock di Easy Di cui alcune raffle ancora in corso e chiuderanno nei prossimi giorni Questa volta abbiamo visto dei pezzi anche abbastanza importanti Come le 350 V2 Static La cui raffle chiude poi nei prossimi giorni Delle altre Easy identiche alle Onyx Non so nemmeno come si chiamano Ragazzi vi dico la verità Tutti questi drop di Easy Io la maggior parte li ho completamente saltati Perché non avevo tanta voglia di starci dietro Visto che siamo comunque in estate E c'era talmente tanta roba che star dietro tutto era veramente difficile So che hanno rilasciato un sacco di slide tutte uguali E dovrebbe arrivarne anche un'altra questa settimana ancora identica Quindi se ancora non siete riusciti a prenderle Non disperate perché avete un'altra occasione In più però il giorno dopo il 17 C'è stato un restock più importante secondo me Che è quello delle Easy 700 Wave Runner Quella che secondo me è una delle Easy più belle in assoluto Probabilmente top 3 se non addirittura la più bella Prezzo di retail era piuttosto alto di 300€ Ma era piuttosto limitata e molto ricercata dalle persone In questo caso la gente non ha proprio voluto farsela scappare E chi è riuscito a prenderla vi assicuro che ha fatto bene Perché si trova con una scarpa che molto probabilmente nel futuro diventerà un Grail Infine chiudiamo venerdì 18 con la release delle Adidas Stan Smith in collaborazione con i Simpsons Sì quella completamente bianca con il back tab verde con il cespuglio con Homer Simpson che scompare al suo interno Secondo me è una collaborazione stupenda davvero molto molto bella e sono riuscito a prenderne un paio Perché voglio vederla dal vivo e cercherò anche di mostrarvela magari su Instagram e TikTok Quindi andate a seguirmi anche lì per vedere quei contenuti Ora probabilmente mi sono anche dimenticato qualche altra scarpa che è stata rilasciata durante le due settimane Che magari era importante Io penso che queste qui fossero le più interessanti o più importanti delle ultime due settimane Vi assicuro che la settimana che arriva sarà molto molto piena Quindi state pronti Adesso però andiamo a dare un'occhiata alle notizie più rilevanti che sono emerse durante gli ultimi 15 giorni Tanto per cominciare abbiamo visto nuove immagini ormai tutte le settimane se non quasi tutti i giorni Travis Scott ci mostra le cut the check Io sono sempre più in app per questa scarpa e le colori sono sempre più belle In questo caso abbiamo visto per la prima volta, in realtà due volte in due occasioni distinte Del nuovo cut the check bianco e nero se non ho visto male con lo svush in rosso Che è una cosa molto nuova per quanto riguarda Travis Scott Lo svush in rosso per ora non l'avevamo visto su nessun modello in collaborazione con lui Decisamente molto carine e abbiamo avuto anche delle immagini decisamente migliori finalmente oserei dire Delle cut the check in colorazione reverse mocha Questa sarà sicuramente una delle colorway più richieste e più ricercate Al momento ripeto per l'ennesima volta non abbiamo assolutamente nessun tipo di data confermata Nemmeno il periodo si dice solo 2023 ma anche quello non è ancora assolutamente confermato Quindi non ci resterà che aspettare e vedere e avere nuove notizie ufficiali Ve lo farò sapere appena si potrà Come vi accennavo qualche settimana fa, questo mese Nike ha deciso di rilanciare il brand Kobe In questo caso con nuove colorway non soltanto delle riproposizioni di colorway passate Ma nuovi colorway su diversi modelli a quanto pare hanno intenzione di riniziare a produrle regolarmente E farle diventare di nuovo delle scarpe molto più accessibili Anche se con questa prima che stanno facendo uscire riguarda l'accessibilità Vabbè adesso ci arriviamo La prima scarpa con cui andranno a iniziare è la Kobe Protro 8 nominata Halo Colorway super pulita, completamente bianca E se non ho capito male non riesco più a trovare il post che dava questa notizia Magari me lo sono sognato e me lo sto inventando Quindi prendetelo stra... veramente tanto con le pinze quello che sto per dire Questa colorway Halo potrebbe essere riproposta tutti gli anni Quello che non ho capito è perché il 23 di agosto e non il 24 Visto che i numeri che ha utilizzato Kobe Bryant durante la sua carriera erano il 24 e l'8 2408, 24 agosto Questa volta hanno deciso di dropparle il 23 Però vabbè della release ne parliamo dopo quando vedremo le release di questa settimana Io comunque sono molto contento di questa decisione di Nike In cui cercheranno di riproporre appunto la linea Kobe Che negli ultimi anni è stata veramente troppo attaccata dai reseller Quando si tratta di scarpe che non dovrebbero far parte del lifestyle E non dovrebbero essere fatte solo per collezionismo Ma essere utilizzate per giocare a basket Come vi dicevo di notizie ce ne sono poche Ma abbiamo ricevuto delle immagini ufficiali di due scarpe Secondo me molto molto importanti O almeno per quanto riguarda i miei gusti Intanto abbiamo già visto delle fotografie delle Jordan 1 Low 85 In colorazione neutral grey Che se non ho capito male dovrebbero essere previste per settembre 2024 Quindi tra più di un anno dovrebbero uscire queste scarpe Secondo me sono veramente eccezionali Davvero davvero bellissime Con la suola ingiallita Forma della scarpa è molto molto simile Quasi identica a quella appunto del 1985 Con lo svuscio ingrandito Più occhielli Il toe box leggermente diverso da quelli che siamo abituati a vedere oggi Sicuramente una scarpa davvero bellissima Che sarà molto ricercata E molto ovviamente anche molto limitata purtroppo Io non vedo l'ora di vederla Fatemi sapere voi che cosa ne pensate Infine hanno finalmente mostrato Questo in realtà già settimana scorsa L'altra colorway della Jordan 5 In collaborazione con Amamanier Nome della colorway in questo caso sarà Photon Dust Tomaya completamente bianca Con la suola nera Con dei dettagli in blu Con questa tonalità di blu azzurro Non saprei nemmeno come definirla questa colorazione Però è davvero molto molto bella Davvero ben selezionata Tanti dettagli pre-ingialliti come è tipico di Amamanier Anche in queste colorway la retina in gomma riporta le A di Amamanier Quindi un dettaglio eccezionale secondo me Collo non rigonfiato come nelle normali Jordan 5 E insomma ragazzi secondo me hanno fatto un'altra colorway davvero eccezionale Molto molto bella Super clean Anche se comunque piuttosto diversa rispetto a cosa ci si aspetterebbe normalmente da Amamanier Io personalmente preferisco comunque la colorway nera Ma anche questa bianca devo dire che è veramente una bomba Ora possiamo passare a vedere quali sono le release più importanti di questa settimana Non sono tante ma sono molto interessanti Praticamente tutte secondo me Cominciamo come dicevo prima con il 23 Con la release delle Kobe Protro 8 in colorazione Halo Il prezzo di retail sarà di 180 euro e a quanto pare saranno molto limitate comunque Sembra che per la release tramite l'applicazione sneakers o Nike Si avranno soltanto circa 6.000 paia Che sono veramente molto molto poche Considerando quanta gente è interessata ad avere un pezzo di Kobe Io non sono molto d'accordo con la decisione di renderle comunque così limitate Nonostante tutto nonostante tutto quello che abbiamo detto Non ci possiamo fare nulla Bisognerà soltanto sperare di riuscire a prenderne qualcuna Io non punto a prenderle per me ma per degli amici che so che vogliono avere queste scarpe E so che le utilizzeranno nel modo corretto Se posso consigliarvi cercate di fare la stessa cosa Le Kobe non sono scarpe da resellare Non sono scarpe lifestyle Passiamo poi al 24-26 Visto che la release sarà divisa in due giornate Sto parlando delle Jordan 1 High in collaborazione con Union LA Sia nella versione men classica che nella versione women's elevate Il 24 verranno rilasciate tramite il sito di Union LA Di solito verso le 5 del pomeriggio Tenete però presente che se volete provare ad acquistare direttamente dal loro sito Avete bisogno di avere un indirizzo in America Per spedire le scarpe dal sito di Union al vostro indirizzo in America E poi dal vostro indirizzo in America farle arrivare a noi Perché il sito di Union non spedisce direttamente in Italia Non spedisce direttamente al di fuori degli Stati Uniti Questo significa che in ogni caso vi costeranno una salassata di soldi Vi consiglierei piuttosto di attendere il 26 In cui ci sarà la release globale tramite tutti gli altri retailer Alcune raffle sono già aperte Quindi tenete gli occhi aperti Date un'occhiata all'interno dei vostri co-group Perché sicuramente potete trovare alcune raffle a cui potete già iscrivervi Il prezzo di retail dovrebbe essere di 200€ per entrambe le paia Ci sono alcuni siti che chiaramente gonfiano un po' il prezzo Tra spedizione, magari il cambio perché lo dovete pagare in pound E quant'altro, quindi bene o male 200-220€ vi costerà la scarpa al prezzo di retail E anche in questo caso gli stock sono piuttosto bassi Per quanto riguarda Nike ci sono circa 6.000 paia per il modello da uomo E circa 1.600 paia per il modello Elevate da donna Quindi sono decisamente molto limitate Non saranno assolutamente facili da prendere Nonostante ci sia tanta tanta gente che le considera bruttissime Vi assicuro che non sarà facile riuscire a vincerle Io spero con tutto me stesso di riuscire a prenderle perché quelle da uomo ovviamente Le voglio veramente tantissimo Io le trovo stupende e sicuramente moltissimi di voi già lo sanno In mezzo al 25 dovremmo, non è ancora ufficiale ma mi sembra di aver visto già qualche raffola aperta Vedere la release delle Jordan 1 Low Atmosphere Grey Una sleeper con la S maiuscola Questa color secondo me è stupenda A vedere dalle immagini la qualità dei materiali sembra davvero buona Il prezzo di retail dovrebbe essere credo di 150 euro Secondo me se non avete un modello di Jordan 1 Low semplice da utilizzare tutti i giorni Io vi consiglio di provare a prendere questa perché è veramente eccezionale Io la trovo davvero molto molto bella e molto ben fatta Infine chiudiamo in bellezza la settimana Sempre il 26 quindi insieme alle Jordan 1 Union Dovremmo vedere il drop delle Jordan 4 Women's in colorazione Frozen Moments Prezzo di retail dovrebbe essere 210 euro Si tratta di una Jordan 4 purtroppo in taglia da donna quindi arriva fino a 44 e mezzo E molti siti probabilmente l'avranno soltanto fino a 42 addirittura Quindi le taglie da 42 e mezzo a 44 e mezzo saranno di sicuro molto più difficili da reperire E probabilmente anche più costose Nonostante sia un modello in taglia da donna io trovo che la colorway sia piuttosto unisex comunque Nonostante ciò a me non fanno impazzire quei dettagli in argento Più che altro perché sembrano veramente molto economici molto cheap come materiali Se l'avranno fatto in plasticaccia e probabilmente sarà anche così Se non fosse stato per quei dettagli probabilmente mi sarebbe piaciuto un po' di più Dovomettrici anche i pannelli in pelle lucida patent a me non facciano impazzire Però generalmente la colorway di per sé non è così brutta Senza quegli accenti in argento secondo me sarebbero stati comunque molto meglio In ogni caso saranno decisamente anche queste abbastanza difficili da prendere Anche se per questo modello lo stock è decisamente più consistente circa intorno alle 30.000 paia Quindi non dovrebbe essere impossibile riuscire a prenderle Tenete presente però che lo stock sarà suddiviso principalmente nelle taglie da donna Questo significa che le taglie più grandi 43, 44, 44 e mezzo saranno decisamente più limitate Bene ragazzi per questo episodio di Soul Corner è tutto Fatemi sapere nei commenti voi che cosa ne pensate Se anche a voi piacciono quanto a me quelle Jordan 5 in collaborazioni con una Mamma Nier Ma io sono di parte ovviamente Se questo video vi è piaciuto io come al solito vi invito a lasciare un bel like e iscrivervi al canale E noi ci vediamo alla prossima